Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 42 nuovi casi di positività al Covid-19 nella città di Agropoli. Ulteriori 10 positivi, sottolineano dall'ente, risalenti ai giorni scorsi, sono stati registrati nel nuovo report. Al contempo si segnalano anche 29 guarigioni. Il numero complessivo dei positivi attuali è quindi di 743 cittadini. Ancora positività si riscontrano anche nella città di Castellabate, nel report di ieri, domenica 23 gennaio, l'ente ha fatto sapere della negativizzazione di otto cittadini, ma anche la positività, di 14 persone, portando il totale di contagiati a 257. Nella città dei Templi, purtroppo, il bollettino dei contagi di ieri riporta anche il decesso di una persona, due invece i nuovi positivi e due le persone guarite, 871 i cittadini in quarantena fiduciaria e 761 il totale di contagiati a Capaccio Pestum. Anche la città di Vallo della Lucania registra ad oggi un numero elevato di positivi, anche se al 21 gennaio l'ultimo report riporta 44 guarigioni e 33 nuovi positivi, che attualmente fanno scendere a 217 le persone contagiate. Nel vicino comune di Cannalonga sono stati riscontrate altri 15 nuovi contagi, che portano il totale di positivi a 62. Nel comune costiero di Camerota sono 43 gli attuali positivi, 21 a Marina di Camerota, 4 a Camerota, 8 a Lentiscosa, 5 a Licusati e 5 residenti ma domiciliati in altri comuni. L'ultimo report di sabato 22 gennaio della città di Sapri, invece, evidenzia 83 nuovi contagi.